Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org. Della Chiesa Cattolica si è ricordato nel proprio programma elettorale, tanto nel primo quanto nel secondo mandato, come il sindaco di Bergamo. Giorgio Gori, in particolare del mondo ecclesiale, ha dichiarato di apprezzare il volontariato, la cura delle fragilità, le forme di accoglienza e di integrazione dei nuovi cittadini stranieri, in una parola l'aspetto della solidarietà, ovvero tutto e solo quanto fosse funzionale all'idea propria delle sinistre al governo locale. Tralasciando tuttavia, come per chi davvero creda, vi siano precisi principi non negoziabili cui far riferimento, imprescindibili, quali la vita, la tutela della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna e la libertà educativa. Proprio sul primo di questi punti, quello della vita, le crepe interne alla maggioranza Gori appaiono sempre più evidenti. Addirittura, dal gennaio dell'anno scorso, giacciono in comune due ordini del giorno pro-life, uno a sostegnere le madri in difficoltà economiche nel corso della gravidanza, l'altro teso a diffondere l'iniziativa Culla per la vita. Da allora, a distanza di un anno, non sono mai, dicasi mai, giunti in aula per la discussione. Sono rimasti congelati. Perché? A far emergere l'anomalia istituzionale ha provveduto lo scorso 21 dicembre l'interrogazione urgente a risposta orale, presentata dal consigliere comunale della Lega, Filippo Bianchi, prendendo spunto la rimozione di tre manifesti pro-life, ordinata di proprio pugno nel primo cittadino lo scorso 10 dicembre, poiché, come recita il provvedimento, ritenuti tali da ingegnerare ingiustificato allarme. Ciò, nonostante lo stesso Gori, non abbia mostrato la stessa foga censoria, né trovato alcunché da ridire lo scorso agosto, di fronte ai manifesti del Bergamo Sex, svoltosi anche in piena pandemia, quelli sì veramente da censurare perché tali da mercificare il corpo alla donna, in contrasto con quanto previsto dagli intenti assunti a livello istituzionale, come ricorda Bianchi, con l'approvazione in passato di specifici ordini del giorno per dei più urgenti. Così il consigliere della Lega ha colto da qui spunto per chiedere anche conto al sindaco Gori di quei due ordini del giorno dimenticati e domandare se intende attivarsi affinché il consiglio comunale di Bergamo possa finalmente discuterli. Certamente l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia in atto non ha aiutato ad accelerare i tempi, tuttavia, osserva Bianchi, con quella scusa siamo rimasti alcuni mesi senza tenere sedute i consigliari. Adesso si svolgono a distanza, ma in attesa, di poter tornare in aula, auspichiamo comunque il rispetto alle procedure, senza che esse vengano reinterpretate in modo peraltro opinabile. Va notato come i due testi congelati per un anno siano ordini del giorno, particolare e non indifferente, poiché tali da prevedere, dopo la discussione, il voto finale. Ed è forse proprio questo voto che la maggioranza di centro-sinistro al governo di Bergamo intende evitare, poiché potrebbe rivelarsi un autogol imbarazzante, potrebbe cioè far emergere in modo chiaro crepe e divergenze che viceversa la giunta Gori preferisce sottacere e tenere ben nascoste. Guardi, loro di fronte a testi come questi sono molto in difficoltà. A Bergamo c'è una sinistra molto estremista e vi è una avversione ideologica verso tutti quei soggetti che propongano misure contro l'aborto, a priori da avversarsi, afferma il consigliere Bianchi. Accanto però a una serie di liste civiche più moderate i cui esponenti prendono i voti dei cattolici, frequentano le parrocchie e cui dovrebbero rendere conto e spiegare determinate scelte. Per questo su certi temi non v'è probabilmente coesione totale nella maggioranza e per questo la giunta preseduta dalla sinistra tende a procrastinare e a rinviare tutto quanto risulti scomodo. Intanto anche Bergamo, come molte altre città italiane, patisce purtroppo le gravi conseguenze di problemi demografici non indifferenti, con un saldo negativo in media di 500 persone all'anno tra morti e nati e un ulteriore crollo nel 2020 già accertato. Benché ancora si debbano tirare le somme ufficiali, l'incremento registrato nel numero dei decessi a causa dell'emergenza Covid ha inciso molto e aggravato il tasso di denatalità, il che rende ancora più urgente l'adozione di misure a favore della famiglia e della vita. Il consigliere comunale Filippo Bianchi appare fiducioso, chissà che questi ordini del giorno non siano in grado di intercettare questa volta il voto di una maggioranza trasversale. Bergamo ne avrebbe bisogno, ma perché ciò accada il primo passo è quello di inserirli tra quelli in discussione. Magari già nel prossimo consiglio, dopo un anno di attesa, sarebbe il minimo. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.